Insieme alla Serie A torna anche la Serie Cadetta. Dopo un anno con 19 squadre e con annesso turno di riposo a girare per tutte le partecipanti, il quadro è nuovamente completo. 20 compagini pronte a darsi battaglia per 38 partite, con playoff e playout da disputarsi in seguito. Oggi con Matteo Marranci andiamo a scoprire il bar sport della Serie B. Fatemi sapere se preferite questo bar sport più organizzato e qualitativamente migliore o quello in cui io parlo in video. E settimana prossima sarete accontentati. La prima partita del campionato di Serie B non è la più esaltante della giornata, anzi, il Benevento di Inzaghi fa visita al neuromosso Pisa, che si difende con Patti Arcigno dai giallorossi campani, che nonostante grandi nomi come Sau, Improte, Insigne e Coda non riescono a scalfire il muro nerazzurro. Sul finale addirittura la grande occasione per i Toscani, con il calcio di rigore sbagliato da Marconi al 94esimo, grazie ad un prodigio di Montipò. Alla fine è 0-0. 0-0 così anche il derby tra Crotone e Cosenza, un match dove, anche in questo caso, i protagonisti sono i portieri. L'eterno Gordazza da una parte e Perino dall'altra. I gol poi arrivano, ed arrivano con la nuova salernitana di Giampiero Ventura, al ritorno dopo i fallimenti con la nazionale e con il Chievo. Parte subito forte, andando a segno con Iallo, che torna a segnare dopo la scorsa stagione in cui ha fatto tanta fatica. Il pareggio del Pescara di Zauri arriva nella ripresa con l'inzuccata di Ugo Campagnaro, uno che non molla mai, 39 anni e ancora tanta voglia di battagliare. Ma i Granata riescono a riprendere la partita con il secondo gol di Iallo, abile nel palleggio e nella conclusione. E con l'Euro-goal del nev'arrivato Niccolo Giannetti, stop col controllo orientato di destro e missile di sinistro. Altri gol, ma con un risultato alla sorpresa in quel di Cittadella, dove i padroni di casa crollano per 0-3 contro un bellissimo Spezia, guidato da Vincenzo Italiano, a segno Ricci, Galabinov e Mora, che trova un gol fortunoso su Carambola. Il Città riparte male dopo la terribile sconfitta del ritorno della finale play-off contro l'Ellas, che gli è stromisi da una promozione che sarebbe entrata nella storia. Parte invece benissimo Lascoli, che schianta per 3-1 al del Duca il Trapani, ex squadra del sopracitato italiano. Segna ancora Scamacca, che tra Coppa Italia prima di campionato è già a 5 gol in 3 partite, con una parabola a giro splendida. Trova poi il gol pareggio Ferretti nella ripresa, ma in seguito comincia il da Cruz Show. Prima scadina il panico in aria, cross in area di rigore, Luperini butta goffamente nella sua porta il palone del 2-1, mentre sempre l'ex Parma dilagherà poi in contropiede e siglande il terzo gol. L'olandese troverà anche il tempo di farsi espellere a fine gara assieme al suo avversario Scognamiglio. Come Lascoli parte alla grande anche la Cremonese di Rastelli, una delle favorite alla promozione stand alle quote dei bookmakers, che vince a domicilio del Venezia per 1-2. Prima Mogos e in seguito il capitano dei Lagunari, Modolo, segnano di testa, mettendo il punteggio sull'1-1, poi a 10 dal termine il misile terraria di Castagnetti che regala la prima gioia al popolo grigiorosso. La Virtus Entella torna nel campionato cadetto dopo un anno di cittravagliato, viste le mille diatribe legate al possibile ripescaggio in B, e lo fa vincendo per 1-0 contro il Livorno. Segna su calcio di rigore Matteo Mancosu, che dopo le esperienze con Bologna e Montreal Impact, torna in Serie B, un campionato che lo vide capocannonieri con il suo trapani nel 2013-2014 con 26 gol. Diverso il destino per un'altra neopromossa, la Juve Stabia, che cade a Empoli pur battagliando fino alla fine, visto che i toscani riusciranno a vincere per 2-1 soltanto nei minuti finali con un rigore molto dubbio realizzato dalla Gomina. Gli azzurri erano passati in vantaggio dopo un minuto con il gol di Filippo Bandinelli, mentre il pareggio delle Vespe l'aveva segnato l'ex Carpi, Caramoco Sissè. A differenza dell'Empoli, un'altra retrocessa inizia male il campionato. Il Chievo, del neo-mister Marcolini, visita l'ostico Perugia di Massimo Oddo, e sebbene passi in vantaggio con una zampata del redivivo Riccardo Meggiorini, non riuscirà a portare a casa neanche un punto dal Curi. Il Grifo riesce a riprendere, a ribaltare la partita con la doppietta di Pietro Iemmello su calcio di rigore. L'attaccante catanzarese è in cerca di riscatto dopo un paio di stagioni tra molte ombre e poche luci, e l'annata sembra essere iniziata con il piede giusto. Chiude la prima giornata l'esordio assoluto del Pordenone in Serie B, che alla Dacia Arena di Udine affronta il nuovo frosinone di Mr. Nesta. Tutti s'aspettano la passeggiata della corazza da Ciociara, ma l'entusiasmo e l'organizzazione dei ramarri di Tesserco coglie alla sprovvista giallo-blu. Il finale è un clamoroso 3-0, con Tommaso Pobega star assoluta con una doppietta all'esordio in B. E' un classe 99, pensate, ed il terzo col che chiude la pratica lo segna Barison, una mazzata bella tosta per Nesta. Iscrivetevi al canale se volete altri video di questo tipo, lasciate tanti mi piace, e noi come sempre ci vediamo settimana prossima con il Bar Sport Serie B.